Quindi De Rossi si allarga a Cufre, prova il destro, De Rossi! E la palla in rete, incredibile! Da 30 metri al venticinquesimo De Rossi! Eh, gran bel gol questo, eh! Dalla numero 10! Francesco! Carica il destro il capitano, il tira gol! Un gol straordinario! Un gol straordinario, direttamente su punizione! Nel set, alla destra di Toldo, il... Mamma mia che tiro! Auuu! 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 Grazie a tutti